Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Sophie, la figlia di Pietro Taricone, è tale e quale al papà. Gli stessi occhi, lo stesso sorriso, perfino le stesse espressioni. Sempre ben lontana da eventi mondani, proprio come la mamma, Kasia Smutniak e con un profilo social chiuso, a pubblicare le rare foto è Diva e Donna, che l'ha immortalata a Taormina, dove era in vacanza con l'attrice di origine polacca. 18 anni compiuti da pochi giorni, Sophie ama la fotografia e i viaggi, altra passione che la accomuna all'attore di Caserta scomparso tragicamente nel 2010. Vittima di un incidente con il paracadute, lei aveva appena 5 anni quando morì. Fu un periodo difficile e durissimo per lei e la mamma, poi riuscita a ritrovare il sorriso grazie al produttore Domenico Procacci, suo attuale compagno, dal quale ha avuto un altro figlio, Leone, nato nel 2014. Sophie è molto legata al fratello e ha un ottimo rapporto, anche con il compagno di sua madre. Quattro anni fa li ha accompagnati alla mostra del cinema di Venezia, dove entrambi erano in concorso con un film L'amica geniale lui. La profezia dell'armadillo lei e ha posato insieme a loro davanti ai fotografi sul red carpet. Anche allora, quattordicenne uguale al papà. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.